Salve a tutti e ben ritrovati con l'informazione del Tg Blu. Apriamo con una triste vicenda. I carabinieri a Biccari hanno arrestato quattro maestri accusati di maltrattamento di minori in una scuola. Vittime, quattro bambini di 9 e 10 anni. Picchiati anche con le bacchettate sulla testa, presi a capelli e offesi. Vittime, quattro bambini di 9 e 10 anni, alunni della scuola elementare Paolo Rosetti di Biccari. Lo hanno scoperto i carabinieri che oggi hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro maestre accusate di maltrattamenti di minori. Le quattro hanno ottenuto gli arresti domiciliari. Tutto è partito dalla denuncia, nell'ottobre lo scorso anno, del padre di un alunno della quarta elementare. Nei mesi scorsi però ci sarebbe stato già un primo sentore di malessere all'interno della scuola, visto che molti scolari siano trasferiti ad istituti di paesi limitrofi. I carabinieri, così dopo la denuncia del genitore, hanno piazzato telecamere videoregistrando le violenze che subivano gli alunni. Immagini che hanno immortalato le violenze delle quattro maestre, costringendo gli inquirenti a chiudere le indagini il più velocemente possibile per porre termine ad una situazione intollerabile. Nel corso della visione delle immagini è immerso, dunque, che a mettere a segno le violenze non era solo la maestra e l'alunno il cui padre aveva denunciato, ma anche altre tre. Numerosi e diversi sono stati gli episodi documentati, violenze fisiche e psicologiche. Un bambino veniva costretto a dire io sono basso e bugiardo di fronte ai suoi compagni di classe. Inoltre venivano costantemente mortificati con frasi del tipo fai schifo, chiudi quella boccaccia che escono solo cose brutte da là, oppure è il cuore cattivo. Le maestre picchiavano i bambini anche con le aste in legno. In un'occasione, una delle indagate è stata filmata mentre trascinava con forza uno scolaro all'esterno dell'aula, afferrandolo per un braccio e apostrofandolo con parole scurrili. E' il comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia, Marco Aquilo, attraverso le nostre telecamere invita eventuali genitori di altri bambini vittime di violenza a denunciare. Comandante, violenze in una scuola elementare, quattro bambini presi di mira brutalmente da quattro maestra. Sì, per ora quattro sono i bambini che noi riteniamo essere vittima di questo atteggiamento, di questi metodi utilizzati dalle quattro insegnanti. I Carabinieri della stazione Biccari avevano già recepito alcune anomalie all'interno di queste classi, considerato che molti genitori avevano spostato gli alunni ad altre scuoli fuori del paese. In più, da lì si è partiti con un'attività di acquisizione di informazioni, una denuncia presentata da alcuni genitori e l'indagine che ha avuto il via e che ha dimostrato in maniera inequivocabile che alcuni insegnanti utilizzavano dei metodi violenti sia dal punto di vista fisico che psicologico nei confronti di questi bambini, bambini di soli 9-10 anni. Cosa facevano nel concreto con l'onore? Nel concreto, tirate d'orecchie, schiaffi, bacchettate, episodi brutti. Comandante, tutto è partito da una denuncia. Adesso sperate che con questa operazione forse qualche altro genitore venga da voi a denunciare le violenze subite dai propri figli? Sì, come spesso succede, non solo per questo tipo di reati. Ci sta sempre la prima denuncia che dà il via alle indagini. Speriamo, come sempre, che anche altre vittime, i genitori di altre vittime, ora si convincano a denunciare o a rappresentare comunque le situazioni anomale che magari avevano registrato in casa. Andiamo a Cerignola. Il sindaco metta e orgoglioso della riuscita della zona traffico limitato, tanto dibattuta soprattutto dall'opposizione al Comune. Sui social il sindaco ha postato foto in cui esprime estrema soddisfazione. Questa è la ZTL che immaginavamo, la stiamo terminando, corso pieno, zeppo senza auto, liberi di passeggiare, rispettare le tradizioni, liberi di fermarsi in pieno corso e parlare, sostare e assaporare. La bellezza del nostro corso, pieno di gente, l'immagine che ci accompagnerà per tutta l'estate. Questo volevamo, questo abbiamo realizzato, godiamoci la città. Questo è il commento che lo staff del primo cittadino di Cerignola, Franco Metta, ha lasciato su un post social ad accompagnarlo, commenti di disapprovazione ma anche complimenti. E mentre lo scorso Consiglio Comunale non ha trovato ancora una volta accolta la richiesta dell'opposizione PD, la zona traffico limitato, tanto dibattuta, viene pienamente avviata anche con i risultati che la maggioranza Palazzo di Città auspicava. Tutte le città d'Europa hanno una zona pedonale per i cittadini, dichiarava giorni fa Metta. Intanto l'opposizione raccoglieva le 2500 firme utili per indire un referendum cittadino. Difatti la richiesta del PD è di rivedere il piano di regolamentazione della zona centrale posta sotto videosorveglianza, addirittura con una comunicazione giunta direttamente dal prefetto di Foggia. La loro intenzione è continuare a contestare l'operato della maggioranza, commenta Ale Frisane di Federazione Civica, il Comune di Cerignola, ma il PD vuole ancora chiarimenti e ulteriori modifiche per giungere ad un accordo condiviso. Dopo l'incendio che due netti fa ha avvolto un'azienda di stoccaggio di plastica ad Apricena, il Comune sta provvedendo a rimuovere i residui della combustione e l'ARPA ha verificato che non ci siano pericoli per la salute all'ambiente e ai cittadini. Come amministrazione stiamo collaborando con il proprietario della struttura per la rimozione del materiale combusto. Inoltre si sta provvedendo alla ricerca di un muletto per facilitare le operazioni di sgombero. A dichiararlo l'assessore all'operatività del Comune di Apricena, Giuseppe Gianmaria Leone Solimando. Il materiale combusto da rimuovere è quello prodotto dall'incendio di vaste proporzioni di vampato due notti fa all'interno di un'azienda di stoccaggio della plastica. A dare l'allarme alcuni cittadini che hanno visto le fiamme avvolgere la struttura situata sulla statale 89 tra San Severo e Apricena al chilometro 8500. Sul posto sono arrivati immediatamente dopo le segnalazioni gli agenti del Comando di Polizia Municipale del Comune, il cui tempestivo intervento ha certamente limitato i danni. L'ARPA, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, ha provveduto in collaborazione con gli organi amministrativi del Comune di Apricena alle verifiche del caso e l'amministrazione rassicura ai cittadini circa eventuali pericoli per la salute causati dai fumi sprigionati dall'incendio. Nell'ambito sicurezza l'amministrazione comunale di Stornarella ha installato delle telecamere di videosorveglianza attive tutta la giornata. Al momento si trovano solo nel centro cittadino, ma prossimamente si proseguirà ad installarle anche nel resto del territorio. Ora presenti solo nel centro cittadino, nei prossimi mesi si provvederà ad allargare la copertura di videosorveglianza anche nel resto del paese. L'amministrazione di Stornarella ha pensato anche sotto sollecitazioni di cittadini di avviare un provvedimento con sistema di videoripresa per sorprendere chi compie atti di inciviltà. Tra le tante problematiche che attanagliano la cittadina dei cinque reali city c'è l'abbandono selvaggio di rifiuti ingombranti sul ciglio della strada, ma anche la sicurezza. Infatti l'idea dell'amministrazione è quella di tenere sotto controllo tutto il territorio per fare in modo di intercettare gli autori di episodi critici. Si tratta di telecamere ad alta definizione definizione progettate per funzionare 24 ore al giorno, dunque in grado di garantire ottimi immagini anche nelle ore notturne. Così commenta Colia, il primo cittadino, il quale già da tempo chiede un aiuto agli abitanti segnalando atti di inciviltà. Stornarella non è il primo paese a dover ricorrere agli ausili elettronici in quanto nell'area sicurezza aumenta l'emergenza, ma diminuiscono i sostegni alle amministrazioni che si trovano a dover fronteggiare situazioni molto critiche. Tantissime le persone che ieri hanno partecipato alla Via Crucis a Foggia, una tradizione che si rinnova ogni anno. Come è tradizione ieri sera, venerdì santo, per le vie di Foggia si è snodata la processione che ricorda la passione e la morte di Gesù Cristo. Una celebrazione che come sempre accade e racchiude in sé memoria e religiosità. L'appuntamento tra sacro e profano che accompagna la popolazione a ripercorrere tutte le tappe del Cristo fino alla sua resurrezione. Una celebrazione, quella foggiana, che è il culmine nel commovente incontro tra la statua della Odolorata e il corpo esanime di Cristo che avviene in Piazza 20 Settembre. Qui, per tre volte, la Odolorata e il Cristo si incontrano e per tre volte si allontanano. Una tradizione, quella della Via Crucis, che per qualcuno risalirebbe ai pellegrini di ritorno dalla Terra Santa. Una tradizione, quella della Via Crucis, che per qualcuno risalirebbe ai pellegrini di ritorno dalla Terra Santa, anche se sono San Francesco d'Assisi e Jacopone d'Atodi a preparare il terreno alla Via Crucis come oggi viene celebrata in tutto il mondo cristiano. Una tradizione che è sopravvissuta nel tempo anche alle dinamiche relazionali tra Chiese e modernità. Ieri le statue della Passione hanno percorso le strade principali del capoluogo Dauno, seguite dalle autorità religiose cittadine, dalla popolazione e dalle tante confraternite religiose, i veri custodi delle tradizioni religiose della città. Un lungo corteo di canti e preghiere per rievocare gli ultimi atti della vita di Gesù, dalla consegna della croce fino alla crocefissione. E la tradizione foggiana vuole che domani, domenica di Pasqua, nella Chiesa della Dolorata, la stessa statua che ieri è stata portata in processione sarà adornata di fiori a simboleggiare la gioia per la resurrezione. E sempre ieri si è rinnovato il secolare rito delle fracchie a San Marco e Lamis. Decine di enormi torci hanno illuminato il cammino della statua della Madonna. È uno dei riti più suggestivi della Settimana Santa in Italia e si rinnova ogni anno da secoli, addirittura forse dal Settecento. La sera del venerdì di Passione, le strade di San Marco e Lamis paiono percorse da mille fuochi. Sono le fracchie che bruciano. Tradizione vuole che Maria, correndo da suo figlio Gesù, fosse accompagnata dal popolo, che le illuminava la strada con grandi torce accese, trasportate su carri, le fracchie, appunto, enormi torce di legno composte da tronchi e rami d'albero, frasche e sterpi tenuti insieme da cerchioni di ferro. Ieri sera il rito, momento carico di fede e devozione, si è rinnovato. Sotto una pioggia di cenere e faville che sembrano danzare al di sopra dei carri in movimento, la statua della Madonna è stata condotta dalla sua casa, la chiesa della Dororata, fino alla collegiata dove è posto il corpo esanime di Gesù. Diverse le novità che quest'anno hanno arricchito la tradizione, a partire dalla fracchia dei San Marchesi nel mondo, a rappresentare una sorta di ponte tra San Marco e tutti i suoi figli trasferitisi altrove e che tuttavia nei loro cuori conservano ricordi e effetti legati alla propria terra, a trascinare la fracchia dei San Marchesi nel mondo proprio loro, i devoti compaesani fuori sede. E poi un concorso fotografico e una mostra dedicata alle fracchie. E presto potrebbe anche arrivare la richiesta all'UNESCO di iscrizione della secolare processione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Pochi ancora minuti e poi il via Foggia-Reggina, una gara importantissima perché una vittoria significherebbe la salita in B del Foggia. I tifosi sono già pronti per la festa e noi abbiamo ascoltato il calciatore rosso-nero Antonio Vacca. Oggi Foggia-Reggina, vincere la gara, portare a casa i tre punti e alzare la classifica per sperare di tornare in B. Sì, affronteremo la Regina come abbiamo affrontato il resto delle squadre del nostro girone. Come abbiamo sempre fatto andremo in campo per portare a casa i tre punti che a questo punto della stagione sono più che fondamentali. La città ci crede, i tifosi ci credono, la squadra sembra che anche ci creda. Sì, la città ci ha sempre creduto, noi squadra altrettanto, quindi è da quest'estate, dal ritiro che abbiamo fatto a luglio che ci siamo preparati per vincere questo campionato. Adesso siamo agli sgoccioli e non bisogna mollare proprio adesso. E a seguire la partita ci saranno anche Pio e Amideo, i comici foggiani che stanno in questi giorni a Foggia perché ieri hanno inaugurato una piazza realizzata grazie al denaro che è stato regalato da Belen Rodriguez e il suo compagno Andrea Iannone. E nell'occasione di ieri abbiamo registrato una piccola battuta proprio sul Foggia Calcio insieme a Pio e Amideo. Sentiamola. Parliamo di calcio, Foggia. Assolutamente. Andiamo qua apposta. Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, anche perché noi come diceva prima Pio abbiamo fatto un voto, diciamo non più che un voto, una preghiera. Praticamente in Malesia c'è questa scalinata dove si prega il Dio Shiva, dove tutte le religioni con il loro culto vanno a chiedere qualcosa, la grazia è detto in termini poveri. Voi l'avete chiesto. Però in un periodo delicatissimo per il Foggia abbiamo chiesto il Foggia in serie B e adesso rivedere questo obiettivo così vicino ci sembra veramente una realizzazione del miracolo. Nuova puntata ieri sera su Tele Blu del programma Piazza Social in cui si è parlato di innovazione, tecnologia, social network, energie resistenti, cultura e cervelli in fuga dalla Capitanata. La replica, come sempre, andrà dopo l'edizione di questo TG. E' andata in onda ieri sera su Tele Blu la quarta puntata di Piazza Social, l'approfondimento settimanale condotto da Felice Sblendorio. In una puntata più sociale e meno social, i riflettori sono stati puntati sui temi dell'innovazione, tecnologia, social network, energie resistenti, cultura e cervelli in fuga nei territori della Capitanata. Ad aprire il Focus, Peppe Zullo, il cuoco contadino di Orsara di Puglia, conosciutissimo ed apprezzato in tutto il territorio italiano per la sua filosofia agricola e per il suo spirito imprenditoriale localmente autoctono. Nella seconda parte, invece, il tema si è aperto con le testimonianze e i pareri dei principali attori di questa stagione dedita all'innovazione. Da Tony a Ugello, con Capitanata Chiama, la prima mappatura dei cervelli in fuga della provincia di Foggia, il social network TocTocDoor di Lorenzo Trigiani, il primo social di quartiere per ristabilire rapporti più umani e meno autistici. Per arrivare a Biagio Giurato di Resmart, il progetto di riqualificazione urbana e umana finanziato da Alpine della Regione Puglia e Davide Grittani, scrittore e giornalista in corso al Premio Strega con il suo E invece io. Tastelli di un quadro propulsivo che non può più aspettare, la voglia di crescere ed a declinare con le forze dei giovani della tecnologia e dell'innovazione, l'unica via percorribile attualmente. La replica, come sempre, al termine di questa edizione del TG Blu. Questa era l'ultima notizia, a me non resta altro che ricordarvi che potete seguire tutti i nostri aggiornamenti andando sul sito www.teleblu.tv oppure collegandovi sul canale YouTube Tele Blu Foggia. Vi auguriamo una buona Pasqua, grazie per averci seguito e arrivederci.